Potenziare e velocizzare l'analisi dei tamponi in una situazione di grande emergenza dove la richiesta di verifica di positività da Covid-19 si moltiplica. In questa situazione l'aslo di Salerno ha dato il via ad una indagine esplorativa per coinvolgere anche i laboratori privati nell'analisi dei tamponi raccolti presso gli ospedali salernitani e presso le strutture distrettuali al fine di cercare di processare un numero crescente di tamponi e soddisfare l'esigenza del territorio di conoscere con un'alta percentuale di precisione l'evolversi della situazione epidemiologica in provincia. Con l'aumento dei casi di contagio, aumento peraltro già previsto da diversi mesi, l'aslo di Salerno ora si sta adoperando per riuscire ad aumentare il numero di laboratori riconosciuti per l'analisi dei tamponi. Nei giorni scorsi era emersa la difficoltà degli unici due laboratori autorizzati dalla regione a riuscire a processare in tempi ragionevoli l'elevato numero di tamponi nasofaringei raccolti. Test fermi in laboratorio e lunghissimi tempi di attesa non aiutavano nella gestione dell'emergenza. Da qui la decisione dell'aslo di effettuare un'indagine esplorativa per acquisire la disponibilità da parte di laboratori privati di analizzare test molecolari per la ricerca del SARS-CoV-2. Tale esigenza, spiegano dalla direzione generale, è motivata dalla necessità di soddisfare compiutamente il surplus di tamponi di circa 800 al giorno e rispetto alle attuali capacità operative e aziendali. Possono manifestare la volontà di essere inseriti nella short list in realizzazione tutti i laboratori privati accreditati e laboratori di analisi specializzati e già autorizzati in possesso delle apparecchiature idonee ad effettuare l'analisi con PCR, proteina C-reattiva, a mezzo amplificatore delle catene genetiche con sede nella provincia di Salerno. Intanto si lavora il potenziamento del laboratorio di analisi dell'ospedale civile di Agropoli. Nei giorni scorsi l'arrivo di un macchinario capace di processare 600 tamponi al giorno al fine di garantire l'analisi dei test sia interni che esterni.